Questo è il Palais Royale. Un tempo apparteneva al fratello del re, ma è diventato il luogo di intrattenimento dei rivoluzionari. Ci sono teatri, caffè, pischie e prostitute. L'intera attività era una copertura per il contrabando dei Templari. Dovete entrare lì dentro e recuperare i tesori rubati. Alla prossima di Oh, 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 oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcuno la pagherà per questo. Che diavolo? Grazie a tutti. Che... Che... Verrò... Cristo... Che... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti